C'è il numero della Stefania? Dopo dopo ve lo dai. No perché vuole, mi ha detto se passate sotto chiamami. Se gli passiamo sotto penso. E torniamo indietro. Tra poco, da che abito qua? Ah ma passiamo sotto no il ponte di Sospiri? No sotto la nostra no? E dove andiamo? Giù per il rio, per il campo della guerra? Sì sì, adesso... Allora chiamala adesso già. Ti do il numero. Sì sì. Non mettere forza. Non mettere forza. Eh perché indietro ti dai anche, quindi spingi. Allungaremo sotto acqua, sotto morso. Casomai... ... rin... ... rin... ... ... rin... ... ahi c'è con me... Grrrr... Grazie a tutti